Venerdì 13 marzo, coronavirus, chi perde chi vince. Perdono la globalizzazione, l'europeismo ma anche il sovranismo nostrano. Invece vincono il modello cinese del capitalismo di Stato, il militarismo e lo stato di pulizia in versione sanitaria. Adesso vediamo l'andamento dei casi confermati fuori dalla Cina fino al 10 marzo, poi vedremo i casi dell'11 e del 12 marzo, cioè fino a ieri, oggi siamo al 13 e i casi di oggi verranno dati stasera. Grazie a tutti. Ecco, questo è il grafico sui dati ufficiali forniti dal Ministero. Si vede chiaramente che sono disposti su una curva esponenziale. fra il 5 e il 6 marzo c'è un incremento del 20,2%, poi del 25, poi del 24, e poi c'è l'illusione fra il 9 e il 10 marzo che c'è un incremento solo del 10,7%, ma è un'illusione perché poi dal 10 all'11 si ritorna un incremento sopra il 20, 22,8 e fra l'11 e il 12 al 21,3, cioè fra l'altro ieri e ieri. Quindi c'è un piccolo rallentamento. Ecco, questa è la situazione, quindi siamo sulla curva esponenziale e non c'è ancora nessun segno significativo di piegare quella curva e di trasformarla in una curva S, in una curva logistica. Io delle curve logistiche ho già parlato in questi video quando ho fatto delle cose sull'energia mettendo le curve logistiche di Sertorio. Ecco, cos'è questa curva? È una curva campana ed è la derivata di quella che si spera diventerà la curva logistica precedente, c'è una curva S. Come si vede, allora in rosso ci sono i dati reali e in blu le proiezioni per i prossimi giorni. Il picco dovrebbe essere raggiunto verso il 18 marzo, poi l'alzeramento dei casi verso il 25 aprile. Guardate che bella coincidenza con la giornata della liberazione. Ecco un articolo dell'Huffington Post di ieri. Il modello Cina si insinua pericolosamente nella politica italiana. Siamo proprio su questo crinale in cui la tutela di un bene e la salute ne comprime altri, in cui lo Stato si pone a difesa dei cittadini al costo di limitare i diritti individuali. Vabbè, questa è una situazione emergenziale, dirà qualcuno, ma ci sono vari motivi per pensare che diventerà un modello politico permanente per il futuro. Ecco qua, fan page di 12 marzo all'ora 23.16. Sono arrivati i 9 medici dalla Cina e insieme a 31 tonnellate di forniture sanitarie. Gigino Di Maio quindi esulta. Questa è quella che definiamo in solidarietà. Non siamo soli, quindi potrà sventolare una sua bandiera di fronte a tutti quelli che lo prendono in giro ormai da molto tempo. Dunque, morale della favola. Vabbè, a questo punto farò un video ogni venerdì sull'evoluzione della questione coronavirus. E' sulla parte moltissimo materiale per trattare i vari aspetti della questione, ma evidentemente non è possibile perché verrebbe fuori un video sterminato. Incominciamo dalla Merkel con la vignetta della stretta di mano rifiutata dal ministro dell'interno e poi con le sue dichiarazioni dove prevede che il 60-70% della popolazione verrà infettata dal virus. Dopo questa vignetta del fatto che il ministro dell'interno non gli dà la mano apparentemente per questione di protezione sanitaria, la Merkel dichiarava ufficialmente in pratica che lei si attende un contagio che coinvolge dal 60-70% della popolazione. Bontà sua! A questo punto mi sono chiesto se si sarà risvegliata in lei la memoria di essere una fisica e quindi avrà fatto un po' di conti. Ecco, questa è la Merkel. Poi le altre due signore, la Gard e la Wanderleier, sono incredibili. Sono una dimostrazione che l'Europa non esiste, era una cozzaglia di interessi economici con un tentativo egemonico da parte dell'asse franco tedesco. Insomma, tutte le cose che ben prima dei sovranisti hanno detto i no global e gli antagonisti che hanno sempre contestato l'euro, contestato la fortezza Europa, contestato la globalizzazione. Come ho detto in apertura, la vittima ormai è la globalizzazione. Cioè, si capisce che basta poco per un granello di sabbia nel motore dell'economia. Le borse sono veramente impazzite. Qualcuno si chiede come mai, dopo il contagio in Cina, le borse continuavano a galoppare. Mentre dopo il focolaio di Codogno, un piccolo e sperduto paese del nord Italia, subito dopo le borse sono entrate in crisi. E questa è una cosa che anche alcuni economisti, anche di aria sovranista, non si sanno spiegare. Trump ha fatto una figuraccia, evidentemente una figuraccia di merda, e adesso deve partire con azioni preventive che anche quelle incidono negativamente sull'andamento delle cose negli Stati Uniti. Insomma, io spero che almeno un risultato alla fine sarà che perde le elezioni, ma dubito. Una cosa mi sta a cuore, siccome io faccio un lavoro che mi mette a contatto con la popolazione nei dintorni del paese in cui vivo, sinceramente c'è un fastidio permanente che mi trovo ad affrontare. Cioè, quelli che dicono che aveva ragione Salvini, che per Furlan lo diceva avere raison Salvini. Allora, a questo punto la risposta scientificamente è molto chiara. Cioè, l'hanno detto Massimo Galli dell'ospedale Sacco di Milano che il virus era già entrato prima dell'emergenza in Italia, è entrato il 25-26 gennaio. Il virus è di derivazione tedesca, cioè il paziente zero, quel manager che ha incontrato la cinese che veniva da Shanghai, che poi è ritornata e che poi si è sentita malata, ha avvisato il manager, il quale aveva già intanto infettato parecchi casi in Germania. Se si vede la timelapse, la Germania ha iniziato molto prima di noi ad avere casi, poi evidentemente non li ha monitorati e quindi se li ritroverà adesso in accumulo, in arrivo. Ma come mai si può dire che il virus ci viene dalla Germania ed è entrato in Italia il 25-26 gennaio? Ce lo dimostra addirittura, indovinate chi, Roberto Burioni che ci parla in un video che fa nel suo canale, Medical Facts mi pare che si chiami, e ci parla dell'orologio molecolare, cioè i virus modificano costantemente, quindi fa l'esempio del dattilografo che fa varie copie, quelli che battevano la macchina una volta con la carta a carbone, fa varie copie di un documento, nella battitura del documento fa alcuni errori, per cui manda in giro copie del test originario un po' modificate con degli errori dentro, così fanno i virus. Ogni qualvolta il virus entra in un altro organismo, nella sua replicazione commette degli errori. È possibile ricostruire la timeline dell'evoluzione del genoma del virus e capire da dove viene quello che abbiamo riscontrato noi, in particolare nel focolaio di Codogno. Per cui è proprio Burioni a smentire Salvini. Quindi lo stesso Massimo Galli ha detto che è entrato da dove nessuno se l'aspettava. Quindi in realtà se si voleva impedire questa pandemia, così che ormai l'OMS ha dichiarato la pandemia l'altro ieri, ecco che questo andava detto per fissare cronologicamente le varie fasi di questa incredibile vicenda, se si voleva evitare la pandemia, bisognava bloccare subito tutto, soprattutto i voli, perché sono quelli che trasmettono in tempo reale. Tutti i viaggi, ma soprattutto i voli. Era la Cina che doveva bloccare tutto. Questo va detto, perché la Cina si è comportata veramente molto male da questo punto di vista. Adesso sembra che arrivino i salvatori, i nuovi medici e gli aiuti anche tecnici, mascherine e qualche apparecchiatura dalla Cina. Ma la Cina si è comportata malissimo, si è comportata facendo i suoi interessi, cioè cercando di vincere il focolaio interno nella regione di Wuhan e del resto non si è preoccupata, non si è interessata. Quindi era quello che si doveva fare, impedire che il virus scappasse dalla Cina. Ma nessuno si è posto questo problema. Tutti si sono posti il problema dell'ingresso. Invece bisognava bloccare tutto alla partenza, elementare. Il blocco internazionale dei voli avrebbe fatto molto meno danni di quelli che verranno fuori adesso. Ma noi dei danni, sinceramente, dei danni del capitalismo non ci importa molto, se non che si riversano poi sul proletariato e sui lavoratori. Magari metterò alcune indicazioni nella parte finale del libro. In ogni caso tutti i riferimenti di questo video li trovate in descrizione a guadagnare l'ambiente. La laguna di Venezia è più chiara, l'aria di Milano è pulita, le emissioni di CO2 diminuiscono. Certo, Milena Gabanelli magari si preoccupa del fatto di come verranno utilizzati i soldi per riprendere l'economia dopo questa crisi che sarà gravissima dal punto di vista del PIL. No, è evidente, si arriverà a percentuali enormi di riduzione del PIL. Questo è assolutamente certo. Ecco, per cui in ogni caso sembra che qualcuno abbia tirato il freno a mano che Greta Thunberg richiedeva solo alcuni mesi fa. Quindi se di complotto si tratta forse la complottista potrebbe essere Greta Thunberg. Guardate, in rete c'è veramente il delirio su queste cose. Ma hanno anche argomenti perché riescono a costruire in maniera abduttiva, no? Non attraverso una logica induttiva o deduttiva, ma una logica abduttiva, cioè con totte le menti tiro conclusioni che sono non appropriate. Prevale questo, no? Magari trovi persone che hanno anche una certa capacità di dialettica, ma che nel mezzo dello svolgimento del discorso e della loro narrazione sono assolutamente zeppi di passaggi illogici che permettono di arrivare a conclusioni che evidentemente non sono accettabili. Ci sarebbero molte cose da dire sulle rivolte nelle carceri che hanno messo in evidenza che il sistema è piuttosto debole. Questo è un fatto molto interessante, veramente molto interessante. E poi sulle proteste degli operai che sono trattati come cane da macello mentre devono stare tutti a casa gli operai devono andare a lavorare. Ecco, quindi anche questo è un altro elemento che mette in evidenza in che tipo di società viviamo. Poi sarebbe da analizzare anche il comportamento dei giornalisti, veramente dei talk show, veramente incredibile.